Vabbè, sa, a sto giro pure te sai come ci si sente a deludere una persona che ti vuole bene. Mi dispiace che l'hai dovuto scoprir così. Madonna, Zè, ma che cazzo gliene frega di me, di te, di noi, alla Mazzetti? Lei ce l'ha un figlio e non sei te. È un coglione che va a Zecchino d'Oro vestito da Renato Zero. Te sai il lavoro suo, uno dei 400 ragazzini che ho visto prima di te e che vedrò dopo di te. C'è fatto caso che ogni tanto te chiama Zeno? Ma ci ho fatto caso sì, ma se sbagliano tutti perché gli suona meglio. No, non è che se sbaglia, te confonde proprio con Zeno ventriglia dalla terza B. Ventriglia dalla terza B? Quello gobbo che scorreggia. La notizia mi devasta. Ma come me fa a confondere? Non è possibile. Non sei onnipotente, Zè, non sei il centro del mondo della Mazzetti? Noi la vediamo là, da sola alla cattedra e ci sembra l'obelisco della vita nostra. Ma la vita sua inizia all'una e mezza quando esce da qua. Te sei un numero e mezza di infinità dei numeri, tolto a tua madre. Non gliene frega un cazzo a nessuno se pigli 4, 8 o 10 a matematica. Mi sa che lei ha visto che tutte le mie certezze stavano andando a pezzi. Mi sa stava proprio a crepar la faccia e ha aggiunto mantenendo conto di quanto è bello, che non porti il peso del mondo sulle spalle, che sei soltanto un filo d'erba in un prato. Non te senti più leggero. Io non lo so se era proprio così. Magari certi insegnanti stanno più in fissa di altri. Però mi ricordo che quel giorno in effetti ho pensato che c'era qualcosa che incredibilmente rasserenante nell'essere solo un filo d'erba, che non faceva la differenza per nessuno. E non aveva la responsabilità di tutti i mari del mondo. Se the ghost up on the hill Watch as the ocean turns to still Watch as the fire burns to the ground